Oggi lo ignoro tutto il giorno, così capirà che sono arrabbiata con lui. Oh, che bella! E' la giornata di relax. Ma allora? Ma come te lo devo far capire che sto un'arrabbiata oggi? Ma porca mire, lo sapevo! Sì, e non mi chiedi neanche il motivo? No, perché così rimani arrabbiata anche domani.